Ciao carissimi, come potete vedere dietro di me non c'è la solita mappa del mondo, questo significa che io sono in viaggio. Per qualche giorno vi manderò i video con questo sfondo un po' brutino, monotono, però vi chiedo perdono. Insomma tra forse una settimana io tornerò a casa e quindi di nuovo vedrete la mappa. Innanzitutto io oggi volevo raccontarvi di una situazione molto importante perché si tratta di una questione che è stata ampiamente discussa nei giornali italiani e dai giornalisti italiani. Ci sono stati diversi opinioni, ci sono stati diversi approfondimenti. Ovviamente la gran parte di tutto quello che è stato raccontato da noi in Italia su questa questione sono le falsità. Come sempre i nostri giornalisti, il nostro mainstream si contraddistingue per la propria capacità di diffondere la propaganda del regime di Kiev. Nessuno si fa delle domande, nessuno cerca di applicare un metodo critico, nessuno riesce a scavare nelle notizie. Prendono quello che gli dà il mainstream ucraino, quello che gli consegnano le autorità di Kiev e semplicemente divulgano diciamo facendo la lobotomia sui cervelli degli italiani e soprattutto quelli deboli mentalmente, moralmente, quelli che non riescono a distinguere la realtà oggettiva dalle bagianate del regime. Io sto parlando del bombardamento missilistico che ieri si è verificato a Konstantinovka. Non è prima volta che succede una cosa del genere, più avanti vi spiego perché. Ovviamente subito, senza domandare, senza capire quali sono le conferme di quello che è avvenuto, su quali informazioni si basano quelle che affermano che c'è stato un bombardamento missilistico russo, perché noi sappiamo che i russi non bombardano gli obiettivi civili, loro sono contraddistinti proprio per questo e specificamente in questa campagna nella guerra in Ucraina, loro non sprecano i loro missili e non vogliono ammazzare la gente civile, loro colpiscono solo e soltanto le infrastrutture militari, proprio per questo in un anno e mezzo di guerra le vittime civili sono così bassi, ovviamente è una tragedia lo stesso, anche quando muore un civile, però se noi mettiamo, se facciamo confronto tra la guerra, ad esempio, che americani hanno fatto in Iraq e ciò che stanno facendo i russi in Ucraina, se cerchiamo di mettere su stessa bilancia questi due eventi, ovviamente noi vedremo che gli americani hanno combinato in molto meno tempo, molti più vittimi civili, si tratta di milioni di persone massacrate, mentre in Ucraina dopo un anno e mezzo loro sono qualche migliaio e ovviamente questa è una tragedia, sottolineo, però questo dimostra che l'intenzione dei russi non è quella di terrorizzare e colpire i civili, loro lavorano su obiettivi militari. Ovviamente per il regime di Kiev è molto importante invece dimostrare al mondo intero che loro sono vittime, loro sono poverini, loro sono sotto una brutale aggressione e a partire da tutti questi finti stragi, tutto quello che loro si sono inventati in queste un anno e mezzo, che poi tra l'altro con tempo si verificano delle falsità, come ad esempio di recente il capo della Commissione sull'Ucraina dell'ONU ha fatto una dichiarazione nella quale ha specificato che dopo le indagini sulla attività dei russi in questa guerra, loro, la Commissione dell'ONU, non riescono a trovare gli elementi che possono dimostrare che i russi stanno compiendo un genocidio contro il popolo ucraino. E questo ovviamente è una cosa importantissima, della quale i nostri giornali non hanno parlato e non parleranno, perché questi scribacchini sono totalmente assoldati dagli oligarchi, da chi comanda l'Occidente per gli interessi dei pochi e contro gli interessi delle masse. Questa volta quindi di nuovo il regime ucraino ha creato una strage, in pratica a mio avviso c'è stato un voluto colpo contro una città comunque che fa parte dell'est-ucraina e che il regime ucraino tratta come una città dove vive il nemico, perché noi abbiamo visto come gli ucraini del centro-ucraino, dell'Ucraina, dell'Ovest, hanno da sempre trattato i russofoni alla zona del Donbass, li bombardano, hanno cominciato a bombardarle nel 2013 e non smettono fino ad oggi. Altro giorno, il primo settembre, hanno ammazzato una bambina di sei anni, io ho raccontato questa cosa, ieri hanno bombardato per l'ennesima volta la città di Donetsk, hanno ferito cinque persone, è morto uno, e quindi questo massacro dei civili continua. E anche nelle zone che ancora controllano gli ucraini, però comunque zone che fanno parte storicamente del mondo russo, loro non hanno pietà, alcuna pietà dei cittadini, e li colpiscono, in questo caso li hanno colpiti con un missile aereo. Ovviamente questo video, io ieri ho condiviso sul mio canale privato Telegram, io ho fatto tutte le spiegazioni, ho mostrato la direzione dal quale arriva il missile, tra l'altro il missile si riflette sul tetto di una macchina, si vede molto bene la tipologia, si vede la direzione dal quale lui arriva, arriva da Drushkovka, che è la direzione dove si trovano proprio i militari ucraini, i russi non avrebbero potuto lanciare questo missile da quella direzione, dalla direzione di Drushkovka, i russi avrebbero dovuto lanciarla da una direzione totalmente opposta. Mentre questo missile chiaramente arriva da lì, ci sono diversi indizi, ci sono persone che lo osservano, sul video si può vedere, se voi andate sul mio canale privato Telegram, se vi abbonate troverete tutte le descrizioni che ho fatto, tutte le spiegazioni, tra l'altro è molto importante in questo caso che ci sono i video di sorveglianza, perché ciò che ci ha aiutato questa volta di capire la natura di questa situazione e diciamo sbugiardare Silensky e la sua banda di nazisti e proprio un normale videocamera di video sorveglianza che era impostato, che ha ripreso molto bene ciò che è accaduto, ha una risoluzione buona questo video che permette di ingrandire le immagini, di vedere molto bene ciò che sta avvenendo. Purtroppo ci sono state le vittime, si tratta di 17 morti, 32 feriti, il missile ha colpito la zona di mercato pubblico, quindi le persone erano lì al mercato, facevano le loro faccende quotidiane, compravano cibo, vendevano cibo, insomma c'era un po' di gente, proprio lì nel mercato è caduto questo missile esploso. Che tipo di missile c'era? Era missile statunitense, si chiama AGM-88, HARM, è un missile che viene montato sugli aerei MIG-29 di produzione sovietica che sono ancora nel servizio dell'esercito ucraino, ci sono specialisti occidentali che sono venuti apposta in Ucraina, che hanno sistemato su questi aerei dei supporti per questi missili, quindi questi aerei oggi sono in grado di lanciare quel tipo di missile contro gli obiettivi, si tratta di un missile in realtà che serve per colpire il materiale, però gli ucraini lo usano, come abbiamo visto, anche contro i civili, contro qualsiasi tipo di bersaglio. In questo loro sono tra l'altro abbastanza scialli, abbastanza sereni, possono tranquillamente lanciare i missili antimateriali anche sulla testa di civili del Donbass, noi l'abbiamo visto più volte, di cosa parliamo se loro bombardano Donbass addirittura con le munizioni a grappolo, insomma, quindi non c'è niente da aspettare. La cosa che mi fa pensare, che mi fa ragionare, sono i dati molto interessanti. se voi ricordate, 8 aprile del 2022, c'era la visita in Ucraina di Borrell e la von der Leyen, sono due persone importanti dell'Unione Europea, Borrell è il capo dei diplomatici dell'Unione Europea, von der Leyen, sapete, è la capoccia di tutta questa baracca dei corrotti amministratori sudditi degli oligarchi e loro sono venuti 8 aprile 2022 in Ucraina, si sono ricati per dare appoggio a Zelensky perché si trattava del momento molto importante, se voi ricordate, Zelensky era lì che perdeva la guerra, i russi in effetti tra aprile e maggio lui la guerra l'ha persa, i russi hanno costretto Zelensky di sedersi a tavola dei negoziati e di accettare l'avvio di un negoziato serio, poi sono intervenuti gli americani, hanno costretto Zelensky di andare in Polonia, in Polonia è arrivato Biden, è arrivato il capo della CIA e lì loro hanno costretto Zelensky di irrompere tutte le relazioni con i russi, hanno detto ma sei impazzito, ti abbiamo dato un sacco di soldi, abbiamo investito in te tantissimo, investeremo altrettanto, quindi tu devi continuare a fare la guerra perché a noi tu servi per la guerra, noi dobbiamo fare la guerra. E da lì Zelensky torna in Ucraina, loro uccidono un signore che faceva parte della delegazione parlamentare che trattava con i russi e quindi hanno fatto sì che non c'era più possibilità di riavviare queste trattative e lì Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina combatterà fino all'ultimo soldato e così via, in effetti è quello che stanno facendo adesso. All'epoca quando è arrivato Borrell e la von der Leyen gli ucraini hanno dovuto dimostrare ma più che ucraini si tratta di Stati Uniti d'America che stavano all'epoca gestendo una parte di forze militari ucraine e anche e soprattutto la SBU che è il servizio segreti ucraini loro hanno fatto questo attentato questo bombardamento missilistico alla stazione di Pulma da Kramatorsk proprio per dimostrare ai visitatori che lì c'è la guerra che c'è una brutale guerra che i russi colpiscono gli ucraini hanno dato ovviamente colpa ai russi anche se si trattava di un missile sparato dal territorio dell'Ucraina controllata da Kiev poi stessi russi hanno fatto delle indagini e hanno dimostrato ci sono tantissime prove che si tratta di una munizione che è arrivata dall'Ucraina però ai ovviamente propagandisti di Kiev e a chi li sostiene in occidente queste cose non interessano perché loro semplicemente non li raccontano qua loro raccontano la loro versione hanno detto ah cattivi russi hanno bombardato insomma si ripete la storia con missile ucraino che ha ammazzato due contadini polacchi dove hanno anche cercato di incolpare i russi finché il mondo intero non ha iniziato a insomma mettere una retromarcia in questa follia propagandistica perché i polacchi hanno condiviso le foto del missile precipitato e tutta la comunità scientifica e tutti i specialisti internazionali militari hanno detto fermatevi questo non può essere missile russi perché si tratta di un missile ucraino quindi non si poteva continuare a andare avanti con questa storia in Akramatorsk all'epoca nel 8 aprile del 2022 è avvenuta una cosa simile e io mi domando ma non c'è una connessione perché adesso tra l'altro è arrivato Borrell perdonatemi non Borrell Blinken Blinken il segretario dello Stato è arrivato in Ucraina ieri è stato lì con Presidente Zelensky con il Ministro degli Esteri Kuleba hanno fatto questa esibizione veramente idiota molto da schiavi sottomessi sono andati Kuleba ha portato Blinken a cenare a McDonald's cioè io dico ma voi siete in Ucraina ma non avete un minimo di orgoglio proprio ma non potete portare questo alto ospite nel vostro ristorante tradizionale dove li preparate le pietanze tradizionali per far vedere che anche nonostante la guerra nonostante le difficoltà le tradizioni sono vive che voi siete un popolo antico come state affermando no niente loro lo fanno apposta perché per dimostrare al padrone che loro hanno sputato sulle loro tradizioni non l'interessa di avere tradizioni loro vogliono essere uniformati sotto una diciamo un disegno occidentale quindi se mangiare a McDonald's come in tutto il mondo ci sono i McDonald's quindi anche lì a Kiev c'è McDonald's sono andati lì a mangiare a McDonald's è una cosa veramente schifosa una dal punto di vista della moralità dell'etica è una totale assenza di questi due fattori nell'amministrazione ucraina solo l'esibizione dei Zerbini solo l'esibizione dei Zerbini e ovviamente proprio durante la visita di Blinken viene colpito il mercato Kramatorsk perdonatemi a Kostantinovka e mi ricorda molto quello che è successo a Kramatorsk quindi io dico in tutti questi mesi non c'è stato un caso del genere è possibile che proprio adesso il missile arriva a Kramatorsk perdonatemi a Kostantinovka nel giorno in cui viene Blinken ovviamente io non credo nelle diciamo sorprese non credo nelle situazioni che succedono senza diciamo pianificazione io in questo caso seguo un filone abbastanza rigido credo che simile cose sono preparate sono organizzate dagli uomini in simile circostanze io penso che non si può credere alle casualità non si tratta del caso non si tratta sicuramente di qualcosa che è accaduto senza un'organizzazione che c'è stata dietro quindi io credo che si tratta proprio di un attentato organizzato preparato premeditato da Silensky dai suoi servi infatti Silensky è subito uscito hanno fatto una tribuna lui subito ha fatto la sua esibizione da attore e questo ovviamente è una cosa deprimente quando si guardano queste situazioni ormai io non ho alcuna fiducia di quello che arriva da quella propaganda da quelle persone loro per talmente tante volte hanno raccontato solo le menzogne che ormai non meritano nessun ascolto e nessun rispetto quindi io ho condiviso sul mio canale telegram tutti i dettagli di analisi di questo video ci sono fotogrammi ci sono c'è video ingrandito c'è la parte dove si vede il missile che si riflette sul tetto di un'automobile e voi potete anche leggere tutte le osservazioni quello che hanno raccontato nei media ucraini quello che hanno raccontato i russi insomma io vi invito di abbonarvi al mio canale telegram e approfondire queste informazioni perché purtroppo sui nostri canali mainstream nei nostri giornali continuano a raccontare le balle cari amici perdonatemi per questo termine continuano a raccontare le falsità cercano di strumentalizzare la nostra opinione cercano di portare verso una pista sbagliata e questo ovviamente ci sta sicuramente danneggiando sta danneggiando il nostro modo di vedere il mondo sta danneggiando la nostra capacità di informarsi e sta danneggiando la nostra obiettività per questo motivo cari amici io rinnovo invito di abbonarvi al mio canale telegram il link per l'abbonamento voi potete trovare nella descrizione a questo video per approfondire questa questione io sono sicuro che nei prossimi giorni i nostri video continueranno a tirare fuori questa situazione forse si inventeranno qualcos'altro useranno qualche presupposto per insomma approfondire e per l'ennesima volta ribadire che sono cattivi russi massacrano poveri ucraini io vi invito di approfondire non dico che dovete credere a quello che dico io però se state ascoltando una campana provate a ascoltare anche un'altra e poi ognuno di voi sarà libero a decidere dove sta la realtà oggettiva qual è la realtà oggettiva trarre le proprie conclusioni e creare la propria opinione però io vi invito di non limitare la vostra visione tenete sempre la mente aperta carissimi io inoltre vi invito di iscrivervi al mio canale youtube se vi è piaciuto questo video vi invito di commentare questo video di condividerlo con i vostri amici vi ricordo che in ogni libreria dettaglio è uscito il mio nuovo libro che si chiama la guerra e l'odio si tratta di un libro che racconta le origini della guerra in ucraina quindi se siete interessati a questa questione se volete sapere chi come perché e quando ha iniziato il processo che ha portato verso la tragedia che stiamo tutti osservando leggete questo libro e poi fatemi sapere cosa ne pensate amici vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene